E' una partita di calcio. E' proprio curioso di vedere che partita verrà fuori. Ci sono tutti i presupposti per assistere a un bel match. Spero di non essere smentito. 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 Molte opzioni a disposizione. La manovra interrotta senza problemi. La manovra interrotta. Buona rete di passaggi dei giocatori dell'Empoli. azione che non sortisce gli effetti sperati. la manovra interrotta. hanno l'occasione. dalla bandierina per mettere la freccia. il pubblico ci crede e continua incitare la loro squadra. la manovra interrotta. la manovra interrotta. azione del gol da rivedere. micidiale nell'uno contro uno. ha saltato il proprio marcatore e poi ha infilato imparabilmente il portiere. Milan sotto nel punteggio. vedremo se saprà reggire. Raffaele Au. Pallone troppo prevenibile questo. Per i padroni di casa percentuali di possesso palla inferiori rispetto a quelle degli avversari. Ma questo dimostra che nel calcio non è sempre importante avere il possesso palla. Ma sono le occasioni che ti procuri che fanno la differenza. Poi non vale l'equazione che chi tira di più fa più gol. bisogna essere freddi, lucidi al momento della conclusione a rete. Alla fine basta una rete in più degli avversari per vincere. Provano a farsi avanti. Buona rete di passaggi nei giocatori del lento. Grande possibilità. Ci mette una pezza con questo intervento. C'è la conclusione. La parata del portiere qui. Arbitro che pone fine alla prima frazione di gioco. sta mancando il solito apporto in attacco di Giroud. Capace da solo di tenere in attenzione l'intera difesa avversaria. Fin qui però la sua prova è abbastanza opaca. Nessuno si aspettava una performance di questo genere da un giocatore come lui. non si è praticamente mai visto nella 3-4. Comincia ora il secondo tempo. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Guadagnano terreno, occhio. Giro. Usa il fisico per tenere a distanza l'avversario. Entra con i tempi giusti sulla palla. Caputo. Può andare. Oli via Giroud. Mette palla in profondità per il compagno. Tiene palla e aspetta l'arrivo dei compagni. Non può sbagliare. Il difensore si oppone ma non è finita. E con questa rete si sono fatti raggiungere. Il risultato adesso è ancora in bilico. E ci viene riproposto il replay del gol. Difese immobile nella circostanza. Tutti fermi a guardare la palla eh. E così non puoi fare. Siamo di nuovo in parità. Grazie al gol dell'1 a 1. Caputo. Grassi. L'azione sfuma qui. Palla nuovamente agli avversari. Provano a ineridire le fonti di gioco avversarie. Caputo. Bravo qui il portiere. Cambi da una parte e dall'altra. Sceglie il premio. La respinta ma il pallone è ancora lì. Pericolo sventato. Portiere grande protagonista è nell'azione precedente. Ha evitato il gol del possibile svantaggio ai suoi con un intervento super. Loftesic. Prova da vincerla in questo finale. Fermatutto davvero sul più bello. Grande intervento. Covalenco. Grassi. Siamo entrati negli ultimi 180 secondi di gara. Buona rete di passaggi dei giocatori dell'Empio. Ricciare controlla senza problemi. Portage il pallone con il corpo. Finiscono i 90 minuti col risultato di parità. Pericolo. Pericolo il pallone con il civilian.